Il profetico I Care di Don Lorenzo Milani, mutuato finanche dall'ex Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, per varare la sua riforma sanitaria, è stato l'elemento comune denominatore del piano formativo approntato dall'Istituto Comprensivo Vitruvo Poglione di Formia per l'anno scolastico agli sgoccioli. La disponibilità e poi di avere un plesso intitolato alla Facciatore Toscano ha spinto l'attiva dirigente, la professoressa Don Zeta Marciano, ad approntare un fitto e ricco programma per ricordare l'opera e la figura di un intellettuale nei confronti del quale lo stesso Papa Francesco di recente ha usato parole quasi di perdono. E I Care è stato il tema della decima edizione del Convigno Nazionale organizzato dall'Istituto Comprensivo Poglione presso l'Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica Bruno Zauli. Insigni accademici alla presenza però di tanti genitori hanno sottolineato l'opera e la figura del pedagogista Don Milani dal cui insegnamento ha 50 anni esatti dalla sua morte e dalla pubblicazione della sua fatica letteraria più controversa, lettera ad una professoressa. Sono scaturite l'idea e l'operatività di essere e fare scuola nei valori democratici e in coerenza con i principi della nostra Costituzione. Sono stati considerati rilevanti gli aspetti del rispetto della persona, la valorizzazione della diversità, la corresponsabilizzazione, la cooperazione, l'apprendimento attivo nello spirito di accoglienza, il tempo scuola che coincide con la vita attiva in un'ottica di educazione permanente. Siamo riusciti a portare a Formia 12 scuole di tutta Italia dal nord al sud, da Piacenza a Cremona, a Potenza, a Campobasso e a Civitella Torricella che è una scuola che si trova praticamente in provincia di Teramo e che era vicina all'epicentro del terremoto. Per cui abbiamo cercato di dare un impulso diverso alla tematica pedagogica e anche quella della solidarietà, della pedagogia dell'incontro, del voler essere veramente comunità stringendoci sia a livello locale sia a livello nazionale.